Approvato in prima lettura il disegno di legge governativo che riforma l'istruzione tecnico-professionale con l'introduzione del nuovo modello 4 più 2, una riforma per i nostri giovani e per il Paese. E poi la recente inchiesta sul dossieraggio a danno di politici e personaggi dello spettacolo aperta dai procuratori Cantone e Melillo. Infine la vicenda che ha visto coinvolto il bambino di 6 anni iperattivo, sospeso da scuola per 21 giorni e riammesso dopo l'intervento del Tar. Questi temi trattati dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara in visita agli istituti Mantone e De Cecco di Pescara. È una riforma che mira a dare un lavoro rapidamente ai nostri giovani, a formarli in modo più aderente, sempre più aderente alle esigenze delle imprese. È una scuola fortemente innovativa, aperta all'internazionalizzazione, aperta al mondo dell'impresa, con programmi che sono completamente rinnovati e soprattutto una scuola che consente ai giovani di immettersi nel mondo del lavoro un anno prima. Le dichiarazioni del procuratore Melillo ieri sono state molto allarmanti. Devo dare atto al procuratore Melillo alla sua trasparenza che ho molto apprezzato. Lui ha detto due cose che probabilmente è immaginabile un livello superiore, che non è stato fatto tutto così. C'è stato probabilmente, si può immaginare, si può supporre un livello superiore e poi ha detto anche che c'è questa convergenza di questi accessi abusivi su una determinata area politica che è l'area di centrodestra. Il fatto che il procuratore Melillo abbia supposto un livello superiore e abbia evidenziato una convergenza degli accessi, in particolare su esponenti del centrodestra, è una cosa di una gravità enorme.